Hanno gettato una bombola del gas nel barbecue dopo un festino, si sono beccati una denuncia. Il fuori programma è costato caro a quattro ragazzi del posto. I carabinieri della compagnia di Cassel di Sangro, al termine dell'attività d'indagine, hanno individuato i quattro presunti autori del folle gesto avvenuto il 5 maggio a Cassel di Sangro, località de Contra, quando una bombola del gas gettata all'interno di un caminetto da giardino acceso provocò una forte esplosione avvertita distintamente in tutto il centro abitato. L'indagine, condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sulmona, attraverso l'analisi di supporti video, l'attività di sopralluogo e il repertamento effettuato sulla scena del crimine, ha consentito di ricostruire nel dettaglio tutti i passaggi del pomeriggio di sballo dei giovani fino al pericoloso epilogo. L'indagati, tutti i ragazzi molto giovani del luogo, tra i 19 e i 21 anni, si sono introdotti abusivamente all'interno di una tenuta privata in quei giorni disabitata e al termine di un festino protrattosi per tutto il pomeriggio hanno gettato una bombola del gas all'interno di un barbecue in muratura acceso, provocando una forte esplosione avvertita in tutto il centro abitato e un incendio che ha danneggiato gravemente il casolare di Campania. I quattro sono stati denunciati, stato di libertà all'autorità giudiziaria, per i reati di furto aggravato, esplosioni pericolose, danneggiamento seguito da incendio, danneggiamento in concorso tra loro. Nel corso delle perquisizioni domiciliari a carico dei quattro indagati è stato rinvenuto materiale probatorio utile all'accertamento delle responsabilità individuali e alla prosecuzione delle indagini.